buongiorno a tutti buonasera sono Miki3100 e benvenuti da Nona Lai con Pigmat Arcade, Fly, Luminar e Replace giocà forza come va tutto bene all systems go, commands pound down stop prepare for mission ok Grazie a tutti. 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 Two... One... 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 On... One... 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 Sì, non è vero. Il gioco! Il gioco 2. Il gioco è lì! I need to party. Let's explore the ancient temple. Let's go. Grazie a tutti. 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 a tutti. che... 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 Come on! Quack, 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 quack! King Superman! I don't know what to do, but I don't know what to do. 3 5 6 3 5 5 5 6 Grazie a tutti. 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 Per ora. Giocchiamoci un'altra volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per poco non ero prima. Va bene. Amici 3100 di Cimicere. Ciao ciao. Grazie a tutti.